Buonasera a tutti e benvenuti, che incontro è questo? Benvenuti al 116esimo incontro del JVM User Group Milano. Benore 116 che in cinese si legge gioia e fortuna, ci sono io a fare la presentazione, scusate perché sono mancato per un sacco di volte, ma ho avuto la famiglia quindi questa è un'ottima gestificazione, grazie per essere venuti così numerosi, in realtà non siete tantissimi ma fa niente, pochi ma buoni vero? E' la vostra prima volta qui al JVM? Vedo delle facce già conosciute, quindi c'è qualcuno di nuovo? Yes! Anche tu sei la prima volta che vieni? Quanto? 2004? E perché non sei più tornato? Perché saputo che non c'ero più io, va bene. Grazie per essere venuti per la prima volta, noi siamo un gruppo di appassionati di programmazione che ci incontriamo più o meno ogni mese per parlare un po' di programmazione sulla stegua degli altri user group, ma forse non sapete voi che è la prima volta che noi siamo uno degli user group più antichi di Milano e la fondazione risale addirittura al 2004 appunto, quindi il 2001 ho visto, poi ho sbagliato la data. Quindi non fate il conto ovviamente 116 perché ci sono stati dei buchi neri, ma diciamo che negli ultimi anni abbiamo cercato di avere una discreta continuità ed è qualche mese che cerchiamo di farla tutti i giorni. Non so se ci seguite online, se ci seguite la mailing list, siete iscritti alla mailing list? Vi piace? Quella nuova. Quella nuova? Bene. Quella nuova abbiamo avuto un boost di gente che parlava nella mailing list, non si sa perché, forse perché abbiamo cambiato solo media, comunque meno male, sì, noi ci contiamo sulla stegua degli altri user group, ci piace, noi parliamo di Java e tutte le tecnologie legate alla JVM in generale, per lo più, ma abbiamo parlato anche di alto, quindi se avete talk, se avete degli interessi così, proponetele, noi siamo sempre aperti verso persone nuove. Allora, stasera parlerò io direttamente, quindi vi cuccate me che parlo per un'ora, ma prima di tutto il nostro caro Gianluca, altessi chiamato Fusilicot, vi presenta questo spazio che mi sembra di ricordare che sia un coworking, ma potrei sbagliarmi, vero Gianluca? In realtà non so se vi presento lo spazio, perché chi è che non sa cos'è sto spazio? Alzate le mani. Chi è la prima volta che viene qui? Voi sapete tutti, cioè avete già sentito, ragazzi, a questo punto oggi, io l'ho detto, sapete esattamente chi sono io probabilmente, sapete esattamente cos'è lo spazio, se non sapete cos'è lo spazio, vabbè, ufficio di Mikamai, ottimo, ufficio di Linky, ufficio di Jack, ufficio di Inoku, vai, No, sì, no, non la conosci tu? È già da tante, allora faccio per te la presentazione, bravo, bravo, bravissimo, bravissimo, bravo, grazie mille, è l'ufficio di un po' d'aziende, ok, no, 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 coworking nel senso sì, che lavorano qui insieme, insieme, no, quindi coworking insieme, però non è un coworking nel senso che non si danno le scrivanie, un tempo sì, ma non più, perché spazio non ci sta più, ci stanno quattro aziende, quindi scrivanie finite. Un po' di dove nessuno può entrare a lavorare? Praticamente sì, quelli che sono dentro lavorano, quelli che sono fuori non possono venire qua a lavorare, mi dispiace, non ci sta più spazio, però da qui in avanti mi sa che da lo sai, sai come funziona, quindi spazio lo diamo gratuitamente alle community e questa cosa qua supporta le community eseguito anche da Credimi, perché si fa sta cosa? Perché ci piace, a te piace, no, in realtà anche a queste persone piace, se no fossi da solo, sai, è facile, Mara, Deborah e Francesco, e sì, ho fatto perché vi piace, sì, e i ringraziamenti, i ringraziamenti agli organizzatori e ai partecipanti, sempre e comunque, e community, se stavo dicendo, no, no, grazie a voi ragazzi, e qualunque informazione potete scrivere qui, questa neanche la sapevi, torna indietro, importantissimo, questa non la sapevi, e c'è un email, esatto, bravissimo, bravissimo, e qualunque informazione potete scrivere qui, anche tu mi raccomando, non più da me in privato, su Twitter, che poi non capisco più niente, ah c'è solo un modo per svolgere, esatto, e basta, fatto, finito, senti, non c'è più la slide dove ringrazi tutto, perché siamo una delle community più di vecchie di Milano, questa, questa, tu forse te la sei persa, però, questa l'avevo già raccontata forse, un paio di volte, forse proprio col jug, ho fatto la gaff di non riuscire ad aggiornare in tempo la slide con il logo del meetup, e quindi, ad esempio, se oggi succedeva, rimaneva il logo dell'Hasker Milano, quindi, e quindi, no, niente, ho deciso da settembre di tagliare la testa al toro e basta, però i ringraziamenti sono sempre, Quindi tu fai come quelle rockstar che a ogni concetto dici una roba tipo, Milano sei la migliore, Barcellona sei la migliore, Sì, ma perché è così? Sono tutti migliori e il mio concetto di migliore è estremamente personale, fatto, Sì, ti ripasso a te, se vai avanti ci stanno avanti mille mila, sì, guarda, ci sta quello che vuoi, ci sta anche lì, sì Grazie Gianluca, grazie Insomma, avete capito l'antifona, se volete un co-working venite qua a lavorare Adesso prima, credo fosse questo sotto la presentazione, prima che io inizi, credo che Mario abbia un pitch da fare Prego Sì, allora, non so se avete visto così, sì, sento, ok, infatti sto coso mi serve poco probabilmente, Non so se qualcuno di voi ha visto, stiamo partendo con l'organizzazione del Voxet Days per l'anno prossimo, La sede sarà la stessa, quindi in Bicocca, sarà un sabato, il 16 maggio, la Call for Paper è appena aperta, la vendita di biglietti sarà aperta la settimana prossima, la Blind Bird, se volete supportarci in qualsiasi modo ci fate un piacere, Se c'è qualcuno, ciao, se c'è qualcuno che sa che la propria azienda vuole sponsorizzarci, fatevi avanti o ditemelo, vi condivido la brochure Vi dico la verità, il modo migliore che potete fare per sopportarci è venire, nel senso di prendere un biglietto, chiedere alla vostra azienda di comprare un po' di biglietti per i vostri colleghi, insomma, Quella è la cosa migliore che potete fare per sostenerci, esserci e fare un evento quanto più bello e grande possibile, perché questo ci darebbe anche la possibilità in un futuro, spero breve, di avere un evento che duri più di un giorno e sia un po' più grande di così, e l'unico modo che abbiamo per farlo è crescere quanto più possiamo, quindi cercate di esserci, insomma, stiamo organizzando il Voxet Days per l'anno prossimo, sarà il 16 maggio 2020, in bigocca e il resto l'hai sentito. Ok, questo è tutto quello che vi volevo dire, insomma, teniamoci in contatto, i miei riferimenti ce li avete, e buona serata. Ciao a tutti! Allora, chi sono? Forse qualcuno di voi mi conosce già perché sono un membro del JUG da tanto tempo, il mio nome è questo qua, mi chiamo Luca Molteni, e stasera parliamo di metaprogrammazione. Io lavoro per una società che si chiama Red Hat, e lavoro su Drus con Mario e Matteo e altre gente del JUG, che è un progetto molto interessante, dopo lo vediamo un po' più nello specifico. Ma prima di tutto stiamo per parlare di metaprogrammazione, questo è un nome un po' sofisticato. Chi è che conosce la metaprogrammazione? Nessuno. Tu. Come concetto. Come concetto, come concetto sensato. Ok, quindi vedremo, fortunatamente oggi è una cosa introduttiva, cioè proprio se uscite da qua che proprio non sapete niente, non va bene. Anzi, dovreste essere arrivati che non ne sapevate niente, invece dovreste uscire che dovreste conoscere la metaprogrammazione. La metaprogrammazione come concetto è relativamente semplice. È l'idea di scrivere un programma il cui output non è un risultato, ma è un altro programma. Seguite? Più nello specifico, se vuole entrare nello specifico, l'idea è di scrivere un programma il cui risultato, una volta eseguito, non è un programma, è più il codice sorgente di un altro programma. In realtà la prima definizione è un po' migliore, però per quello che ci interessa a noi oggi la seconda è un po' migliore. Poi ovviamente se andate su internet trovate 30 definizioni diverse, per stasera ci affidiamo a questa cosa qua. Perché è interessante? Interessante perché è uno strumento molto potente, solo che il problema è che il nostro ecosistema non è molto utilizzato. Ovviamente se chi di voi, magari c'è qualcuno di voi che utilizza Clojure, se ci fosse stato qualcuno di voi che usava Clojure, magari avrebbe conosciuto bene la metaprogrammazione, perché Clojure è quello che si chiama un dialetto di LISP. LISP è un linguaggio di programmazione uno dei più antichi in cui la metaprogrammazione è proprio pane quotidiano. Quando devi utilizzare LISP ogni giorno utilizzi la metaprogrammazione. Nello specifico utilizzi un concetto che forse è più comune, forse è più sentito la metaprogrammazione, il concetto delle macro. Avete già sentito parlare di macro probabilmente, no? Magari molti di noi abbiamo un background che viene dal C, scusate, dal C, dal C++, e quindi magari ha sentito il concetto di preprocessore, il concetto di macro, e se ci pensate un preprocessore è letteralmente quello. È un qualche cosa che viene eseguito prima dello step della compilazione il cui output non è un programma. scusate, non è un risultato, ma è proprio un pezzo del programma. E poi nello specifico il preprocessore, se qualcuno viene da C, è proprio un pezzo di programma che viene aggiunto all'inizio di quando viene chiamata la macro. Interessante, no? LISP nello specifico, e ve ne parlo perché c'è un'implementazione di LISP appunto di Java che si chiama Clojure, che è questa qua, ha una sintassi molto particolare. Assomiglia più o meno a questa qua. Se non l'avete mai vista è molto strana. In sostanza è un linguaggio funzionale innanzitutto, non tipato, anche se ci sono delle versioni tipate. E di solito la chiamata di funzione sta sempre all'inizio e gli argomenti vengono dopo la chiamata di funzione. E più o meno, non c'è molto altro, tutto viene costruito rispetto a questa cosa qua. E questa sintassi molto semplice, che assomiglia a quella di un albero, perché adesso non si vede molto bene, ma se io vi facessi una roba del tipo print di più di 2, 3, così si inizierà a vedere che assomiglia già più in un albero. Questa sintassi molto particolare si sposa molto bene nel generare codice sorgente. Anzi, vi dico di più, i vari LISP godono di una proprietà che si chiama omoiconicità e che vuol dire che le strutture dati hanno la stessa struttura del codice sorgente. Una cosa abbastanza avanzata che stasera non vediamo, perché questo è un talk introduttivo. Però voglio giusto mettervi la pulce nell'orecchio così se un bel giorno voi andate a dire ah, ho sentito questo termine, me l'ha detto un pirla al giugno, omoiconicità, andate a vedere e dite ah, omoiconicità, quella capacità di LISP di avere le strutture dati che hanno la stessa forma del linguaggio. Molto comoda. Molto comoda per la metaprogrammazione. Ok? In C, C, P, P l'abbiamo già visto solo le macro. Adesso iniziamo a vedere un po' di cosa ci occupiamo noi. Innanzitutto, ah, mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Oggi non ci sono slide, è tutto live coding, quindi spero che vi piaccia, se non vi piace vi attaccate al tram, come si dice qua a Milano. Prima vi faccio vedere un secondo, dico un attimo in introduzione di cos'è Drules. Drules è un production system. È un sistema che produce intelligenza artificiale. Bellissimo. Ha una definizione assolutamente aleatoria, no, assolutamente a caso, che non dà nessuna rappresentazione di quello che facciamo veramente, però viene utilizzato in certi meccanismi, l'intelligenza artificiale è importante, siccome parlare di intelligenza artificiale in questi giorni è figo, parlo anche io di intelligenza artificiale, più comunemente chiamato è un rule engine. Probabilmente qualcuno di voi ha già sentito parlare di Drules, per piacere alzate le mani tra i miei colleghi, perché sarebbe ridicolo. Ok, quindi più o meno sapete tutti cosa fa Drules, perfetto. Tu sei letteralmente un mio collega. Sì, vabbè, comunque neanche tu sei niente di Drules, quindi va tutto bene. Vabbè, comunque, Drules come funziona? Drules è un motore di regole, che vuol dire che immaginate un processo che gira continuativamente, a cui vengono date delle regole, e le regole sono della logica, quella che noi andiamo a chiamare business logic, descritta con un linguaggio molto particolare, chiamato il Drules Language, DRL in italiano, di cui qui vedete un estratto non particolarmente significativo, perché ovviamente lo vedete concatenato all'interno di una stringa Java, che vuol dire che dovete un po' leggere tra le righe, tra il rumore di new line, così, però assomiglia a questo, ovviamente in un file di testa è un po' più bellino, e il cui scopo di Drules è appunto quello di dare una serie di regole che descrivono la nostra business logic, ma dovete immaginare una serie di regole, un numero altissimo, tipo mille, duemila, diecimila, un milione di regole, mille, che funzionano sempre bene, e dopodiché cosa si fa? Si prendono tutte queste regole, le si compila, all'interno di quello che chiamiamo noi una sessione, e dopodiché a questa sessione si danno in input dei dati, e Drules si comporta a seconda di come noi abbiamo dichiarato nelle regole. Questa ha una serie di vantaggi rispetto a scrivere una serie di if una dopo l'altra, è che prima di tutto ovviamente queste regole sono scritte in modo dichiarativo, e il secondo dei vantaggi che mi viene in mente è un vantaggio nel livello di prestazione, un rule engine è ottimizzato per eseguire tutte le regole che noi mettiamo nel modo più efficiente possibile. Qual è il modo più efficiente possibile? Lo sa il rule engine, voi non lo sapete. Quindi mentre voi scrivete le regole, asterisco, perché ci sono un po' di schermi da fare, voi quando scrivete le regole non dovete preoccuparvi troppo di come le scrivete o di quale ordine le mettete, perché comunque il rule engine fa tutta una serie di lavori per cercare di ottimizzarlo e ottenere il path di esecuzione più efficiente per quello che avete bisogno voi. Sempre asterisco, perché ovviamente se poi scrivete le regole un po' così, veniamo noi programmatori e vi diciamo perché avete scritto le regole in modo un po' così? Dovevate scrivere le cose? Insomma, ci sono dei compromessi sempre da fare. Comunque questo è rules. Che cosa è successo? Questo appunto, immaginatevi di vedere questo in un file. Storicamente rules funzionava così. Allo start-up, quando noi utilizzavamo, lanciavamo rules appunto, prendevamo tutte le regole scritte nei file, nelle stringhe, così le mettevamo in memoria, le parsavamo con un parse, le processavamo e creavamo delle strutture dati in memoria. Veniva fatto tutto lo start-up questa cosa qua. Una volta che avevamo creato questa cosa in memoria, poi potevamo inserire i dati. Questa fase di parsing, di compilazione, scusate, di parsing, di creare delle strutture dati in memoria, era molto costosa. È successo che dei clienti hanno iniziato a dire sì, ma sapete che cosa c'è? Inizia a diventare tanto costosa, iniziamo a avere dei clienti che magari ci mettono 20 minuti a far partire i drussi. Ovviamente, era giusto 20 minuti? Sto sparando una cifra un po' così. Immaginiamo 10 minuti. 10 minuti ovviamente è tantissimo. Immaginate se dovete riavviare una macchina e la macchina per andare su ci mette 10 minuti. È una roba che ovviamente nel 2019 non è più accettabile. Ovviamente i nostri clienti stavano utilizzando Rule Engine in modo corretto, semplicemente avevano appunto un numero di regole spropositato e ovviamente questo incideva. Perché dovevamo fare tutto questo allo start-up time? Ci è venuto in mente quando io sono proprio entrato in Red Hat di trovare una soluzione a questo problema. La soluzione a questo problema in uno specifico è stata quella di creare un DSL scritto in Java, ovvero proprio un linguaggio di programmazione col quale noi potessimo scrivere queste regole qua. Adesso vi faccio un esempio di questo DSL. Tipo, vi faccio vedere. Allora, non è necessariamente il DSL... Ci leggete tutti? Allora, non è necessariamente il DSL più leggibile del mondo, però non è neanche male. Questi esempi sono un po' fatti ad hoc per voi per dimostrarveli. Come vedete sono molto diversi da quello precedente. Qual è la prima differenza evidente? Patatine a chi lo dice? che è codice sorgente. Questo è codice Java, vedete? Anche se è scritto con una fluent interface elegantissima. Scusa, è bello avere la struttura da albero, no? Vedete? Com'era precedentemente, no? Qui avevamo, non so, degli import, avevamo questo person che noi chiamiamo un pattern e cose di questo genere. Questo è proprio codice, una stringa normale. Se io sbaglio qui scrivo x invece che cosa nessuno se ne accorge. Questo invece è proprio codice Java. Non solo questo DSL, scrivere questo DSL ci ha dato un tot di vantaggi e il maggiore dei quali è ovviamente quello in cui facevo riferimento prima. Questo codice DSL si può compilare utilizzando Java C. Una volta che abbiamo compilato utilizzando Java C otteniamo i class, esattamente come lo conoscete, e i class sono già compilati. Che vuol dire che lo start-up è ordini di grandezza più veloce. Vi convince questa cosa? L'unico problema è che ovviamente la maggior parte dei nostri clienti utilizzava il rules rules language DRL una cosa di questo genere e sarebbe stato folle pensare di dire a tutti bene, prendete tutte le vostre regole e riscrivetelo in questo modo. Anche perché questo DSL è bellissimo comunque, non l'ho fatto io. DSL è bellissimo però insomma non è la cosa più cara del mondo da capire. Allora, quello che abbiamo ci siamo inventati è di fare un compilatore il o come lo chiamerebbe un mio collega transpilatore, no? Vabbè, forse questa star l'avete già sentita quindi scusate se mi ripeto. Comunque adesso si parla tanto di transpilatori perché esatto perché la star è la colpa di state già scritte. Comunque teoria, a livello teoric dovrebbero chiamarsi compilatori. Comunque avevamo bisogno di un qualche cosa che prendesse in input un DRL file, giusto? E ci desse in output questo DSL che abbiamo visto prima e guarda caso a questo punto questo uno di questi momenti dovreste dire ma aspetta un programma che prende in input un programma e sputa in output un altro programma mi sembra un lavoro per la metaprogrammazione letteralmente quello che abbiamo fatto. Adesso prendiamo per esempio questo esempio qua. Questo cosa succede? Abbiamo creato in DRLs un sistema di testing che eseguisse il test un test semplicissimo adesso andiamo a vedere cosa fa questo test questo è un test molto stupido tipo praticamente si inserisce una persona di nome Mario e si verifica che venga scattata una regola proprio il test uno dei test più semplici che abbiamo nella codebase di DRLs. vedete cosa succede noi abbiamo creato questo in modo tale che lanci il test in modo normale e lanci il test utilizzando il nostro compilatore quindi interpretato in questo modo in questo modo abbiamo confrontato e abbiamo verificato che tutti i comportamenti originali di DRLs fossero mantenuti anche nella versione notate che ci sono due righe perché ci sono due dialetti di questo DSL ma questa è assolutamente out of topic quindi non ne parliamo e nello specifico andiamo a vedere queste sono tutto il DSL che ha generato vedete sarebbe questo qua e io ve ne parlo perché perché appunto abbiamo generato con la metaprogrammazione e non solo è quello che praticamente sto facendo da due anni a quando sono iniziato a lavorare in reddata e sono molto orgoglioso quindi ne parlo a tutti ok ovviamente qui è un po' meno leggibile perché quando si va a generare del codice non si va a generare il codice per la leggibilità ma si va a generare del codice in modo tale che sia comodo da generare e da reinterpretare dopo comunque vi siete fatti un'idea ok questo codice è stato generato con una libreria in Java che si chiama JavaParser che è ironico visto che la libreria appunto si chiama JavaParser e non si chiama tipo JavaMetaProgrammer ok JavaParser purtroppo nasce così nasce come un'implementazione di un parser per Java scritto in Java e ciao nasce come l'implementazione di parser e mano a mano si è evoluto diventando un set di utility per trasformare i codici di Java per parsare i codici di Java ma anche per generare i codici di Java e oggi noi stasera andiamo a vedere la parte di generazione del codice di Java che è un po' la parte che ci interessa di più della metaprogrammazione ci sono domande? sì prego sì sì da qualche vantaggio o qualora la domanda di Francesco è il fatto che il nostro DSL sia tipato dà qualche vantaggio o o alla fine dobbiamo convertire negli messaggi errori allora ovviamente in fase di compilazione noi dobbiamo verificare che la cosa prodotta sia giusta è più o meno equivalente a quella iniziale abbiamo dovuto generare un compilatore in modo tale che producesse gli stessi messaggi errori di compilazione che generasse quando si scriveva del DRL scritto a mano non so se questo risponde a qualche domanda a livello di runtime ci sono dei vantaggi a prescindere diciamo di prestazioni così per vari motivi perché comunque l'implementazione è leggermente diversa ma per lo più abbiamo sfruttato la implementazione esistente quindi il vantaggio grosso come ti dicevo come vi dicevo prima è stato lo startup time perché a questo punto appunto è cambiato in ordine di grandezza si è passati da prendere da fare una serie di parsing così a eseguire semplicemente del codice compilato prego no no tanto stasera abbiamo tutto il tempo nel mondo ma quindi questo tuo lavoro che hai fatto il gol finale qual è? il cliente ha una serie di TRL li trita e ottiene del codice che dovrebbe mettere la sua code days o semplicemente una sorta di adapter di fronte di fronte al resto di fronte al motore di rules invece allora la domani di Tony O'Angela tweet è l'output di Tony O'Angela non lo so perché ti chiamo Tony O'Angela Twitter perché il tuo handle è Tony O'Angela Twitter sul canale Gitter di Milano ah Tony O'Gela Twitter scusa sai che è bravo ho sempre letto sai come quelle robe tipo vergate sul membro che uno legge sempre le robe sbagliate vabbè comunque Antonio l'output della cosa ovviamente è stata dare un'implementazione nuova ovviamente uno potrebbe utilizzare il compilatore da solo ma se uno dà in input direttamente i DRL non sta a preoccuparsi di compilarselo da sé viene faccia tutta un API per prendere compilare e eseguire normalmente quindi all'atto pratico i clienti non hanno dovuto che fare cambiare un flag improvvisamente avevano tutte le bellezze dell'executable mode non so se questa è risposta alla tua domanda ok ottimo allora abbiamo visto una piccola introduzione abbiamo visto closure vediamo jshell chi è che conosce jshell questo perché ho configurato il mio terminale in modo tale che sono il bello della diretta sì allora sì la domanda è per quelli che si seguono da casa non avete valutato di generare direttamente bytecode allora inizialmente storicamente l'idea era anche quella di fornire all'utente la possibilità di generare di scrivere il codice a mano per quello che ci sono dei test che comunque ti mostrano come generare ecco dice a mano quello java dsl in teoria tu potresti scrivere le regole e usare quel dsl invece di eliminare il dlr per non usare allora quello era una delle possibilità poi in realtà il problema cioè non il problema quello che abbiamo dovuto fare è che nel dsl java ci sono esplicitate molte più cose che nel ddrn sono indici del genere ovvero per esempio come vengono indicizzati diversi costrini e quindi il dsl è diventato un po' più difficile da usare e quindi per come è fatto adesso sono scettico che qualcuno a parte i progetti interna lo usi esatto diciamo che poi fornire il dsl ai nostri clienti ci dava anche il vantaggio che se uno avessi voluto fare qualche cosa e succede molto più spesso di quello che tu creda è un sistema che generi delle regole quindi un po' metaprogrammazione all'interno di drus che venga fatto appunto utilizzando java e non utilizzando concatenando delle stringhe a mano questo succede come ti dicevo molto spesso credo che ci siano già almeno due clienti che lo facciano che generano delle regole dinamicamente ovviamente generare regole dinamicamente è molto più facile io tipo una volta al mese rispondo a una domanda su da cover flow di una persona che vuole generare delle regole dinamicamente allora gli dico guarda abbiamo fatto sta cosa è molto conveniente ovviamente se avessimo fatto avessimo generato direttamente l'assembly avrebbe avuto probabilmente dei vantaggi tra parentesi ironicamente in drus c'erano già dei pezzi dove veniva generato del machine code direttamente però l'esperienza non è mai bellissima diciamo si è stato un po' che riprendia per generare le regole ASM esatto una cosa che abbiamo capito a distanza di anni e che non era evidentissima che non era evidentissima all'inizio che però avremmo voluto sapere all'inizio quando abbiamo scritto questo compilatore è di tenere separata la parte di generazione di trasformazione degli AST interni da quella di emissione del codice lui è stato proprio un errore di gioventù e adesso è un po' troppo difficile da fare perché ti dico questo se avessimo tenuto separate le due cose si poteva fare una cosa divertente si poteva fare in sostanza un qualcosa tipo non so immaginate un'interfaccia e avere due diverse implementazioni una che sputava fuori Java codice Java generato un'altra che sputava fuori assembly e perché ti parlo di questa cosa qua perché nel frattempo è successa anche una cosa interessante quando noi siamo arrivati a più o meno una 1.0 di questo nostro compilatore è successo Graal WM in sostanza e Quarkus il nostro prodotto Quarkus è proprio come il caccio sui maccheroni per noi è stato perché è stata una cosa che ha funzionato benissimo nel senso Quarkus non so se conosci Quarkus adesso scusate faccio il pitch di 10 secondi di Quarkus di redatta a parentesi vabbè forse non sono la persona più adatta per farla comunque Quarkus è un nuovo sistema di sviluppo di applicazioni si può chiamare così non voglio chiamarlo un toolkit ecco non voglio chiamarlo un statewide application che sfrutta appunto la compilazione nativa di alcune GVM tra la cui quella di di Graal WM e che dà dei vantaggi importanti appunto un vantaggio importante è quello comunque di creare delle native image delle immagini native dei codici binari proprio così che non richiede più lo startup della GVM per utilizzare l'applicazione web e scusami la digressione se vado un po' off topic ma qui ha senso il modo Quarkus mentre si sviluppa non so se vi siete visti le demo online cioè comunque quello che fa la gente è una cosa che si poteva fare anche nella GVM però in Quarkus viene particolarmente bene out of the box come diceva il mio ex datore di lavoro cioè ovvero prende fa le modifiche fa il refresh del browser e vede già le modifiche che funzionano che funziona molto bene è una roba molto tipica dei toolkit per sviluppare applicazioni web magari dinamici è una roba un po' meno tipica se avete utilizzato Java per sviluppare certe cose ci sono cose più veloci ci sono cose meno veloci per chi come me ha fatto Struz e GSF bisogna riavviare tutto ogni volta perché ve lo dico Quarkus come fa? Quarkus ogni volta che fai modifica proprio va a emettere l'ASM il bytecode della differenza della modifica precedente e che vuol dire che è molto veloce e quindi vuol dire che nel frattempo che noi facciamo il refresh del codice lui va a emettere il bytecode scusate il codice inattivo insomma va a fare dei smandrupi proprio a basso livello che gli vengono è molto veloce e probabilmente se noi avessimo sposato questa cosa avessimo trovato fatto il compilatore in modo tale che poteva produrre sia DSL che codice assembly avremmo avuto un'integrazione con Quarkus leggermente più no leggermente più immediata diciamo tra parentesi forse non ve l'ho ancora detto ma la nostra implementazione di Drules su Quarkus si chiama Cogito da qui spiegata la nostra maglietta e mi raccomando si chiama Cogito e non Corito o Cogito come dicono gli americani ma per voi non sarà un certo problema perché siete italiani e ha risposto a tua domanda? sì ho parlato fin troppo e ah no giusto mi resta me in mente un'altra cosa una limitazione banalmente di andare in una JVM che supporta la Head of Time Compilation come GraalVM una limitazione appunto che non si possono utilizzare delle feature del linguaggio come ad esempio la Reflection che in Java è posso dirlo abusata si può dire è usata fin troppo storicamente c'erano dei motivi per utilizzare la Reflection magari certe cose sono state utilizzate troppo e inutile dirvelo anche in Drules noi abbiamo utilizzato la Reflection proprio come se fosse lo zucchero sulle ciambelle insomma invitatevi voi una similitudine sensata comunque è proprio una di quelle cose che abbiamo utilizzato tantissimo e quando abbiamo voluto utilizzare Drules far girare Drules su GraalVM ovviamente non funzionava questa cosa e a parte tutto il proposo dell'executable model abbiamo dovuto sostituire dei pezzi che utilizzavano la Reflection banalmente per fare cose anche semplici tipo banalmente prendevamo dei file XML e andavamo a popolare dei bin questo è proprio il classico il classico risultato che si ottenete tramite la Reflection si utilizza una di quelle librerie tipo binutils si fa il map in XML e si trova tutto e come si fa in GraalVM non si può fare quello che abbiamo fatto abbiamo utilizzato di nuovo la risposta alla metaprogrammazione ovviamente per generare del codice che fosse compilato e che avesse già la configurazione in cui si fa l'XML all'interno della Native Image interessante allora in GraalVM la Reflection si può usare asterisco perché ovviamente ci sono delle eccezioni a queste cose però diciamo che esatto ti puoi guardare il video perché ci sono delle cose interessanti ci sono dei dettagli comunque parliamo di JShell JShell è un programma che hanno incluso all'interno della GVM11 che è quella che si chiama una REPL una REPL è un acronimo che sta per Read Evaluate Print Loop quello che fa JShell è letteralmente legge l'input che gli diamo noi lo valuta lo stampa e dopo riparte da capo quindi se gli faccio 2 più 2 divinate cosa fa stampa il risultato e riparte da capo si possono anche eseguire dei side effect interessante println low world jug milano roba del genere e file low world jug milano perché vi sto parlando di JShell non perché sono impazzito ma perché se il nostro scopo di stasera è utilizzare la metaprogrammazione e generare il codice sorgente sarebbe interessante vederlo così in modo dinamico cioè genero il codice sorgente lo vedo lo valuto e dimmi cos'è il codice sorgente peccato peccato che JShell non supporti una feature che serve per fare tutto questo paragon di cose che è una feature che si chiama ival ma parliamo un secondo di questo concetto di ival forse avrete sentito parlare del concetto di quoting ne avrete sentito parlare quando probabilmente avete non so dovuto mettere un letterale delle string all'interno di un xml cosa di questo genere il quoting non vi do la definizione formale precisa perché non me la sono segnata non la so però concettualmente ci sposta tramite i metalivelli quindi quello che si può dire è che si parte da un metalivello e quotando il nostro elemento si arriva a un alto livello di metalivello il cui si può uscire utilizzando la funzione opposta che si chiama eval adesso andremo a vedere nello specifico cos'è il quoting e cos'è l'eval ovviamente JShell manca di uno di questi due elementi manca eval e quindi non lo possiamo utilizzare quindi quello che ho fatto io è utilizzare JShell come una liberia mi sono fatto questo progettino che poi troverete online troverete su github che importa JShell come una liberia e poi la chiama adesso non sto qui a farvi vedere il codice direttamente perché non è particolarmente interessante però letteralmente implementa questo metodo quindi questo che posso fare posso chiamare qua eval come è che doveva chiamare qua ah exampleJShell punto eval e il risultato dovrebbe essere lo stesso vediamo se funziona se non funziona vado a casa ok questo è un buon refuso di prima vedete quello che ha fatto JShell ci ha detto successful addition of 2 più 2 value is 4 ok quello che ha fatto ha preso il mio codice sorgente all'interno della stringa e l'ha valutato rispetto al contesto ok ma perché ho parlato di codice sorgente come stringa perché a noi programmatori se ci pensate ci piace pensare al codice sorgente come se fosse una stringa di testo quindi quando vi dico andate a modificare del codice sorgente voi cosa fate aprite un editor di testo ok molto probabilmente qualcuno di voi aprirà un IDE che è più che un editor di testo ma un sacco di programmatori soprattutto quelli nuovi cool aprono io non uso più Eclipse uso VS Code che banalmente è un editor di testo quindi se dovessi chiedere a voi qualche cosa tipo che cos'è il codice sorgente ok qualcuno di voi mi rispetterebbe è del testo semplice del testo semplice che contiene delle istruzioni a livelli diversi di linguaggio macchina per essere eseguite da una macchina per produrre un risultato mi seguite? ok quindi se io volessi generare un metodo che mi fa hello world banalmente ops scusate greetings salute faccio il ritorno hello world questo metodo lo conosciamo è Java giusto? se io volessi fare un'operazione di quoting se io adesso volessi generare un metodo il cui risultato non è restituirmi la stringa ma volessi creare un metodo il cui risultato è generare un metodo che mi restituisce la stringa cosa faccio? prendo il mio codice sorgente dal mio editor di testo e faccio così giusto? ok rivediamo insieme cosa fa questo qui non è più un metodo che genera una stringa hello world ma quello che fa è un metodo che genera un metodo che genera una stringa ho fatto un'operazione di quoting mi sono spostato su un altro metalivello una volta con la generazione di quoting quello che posso fare è darlo al mio esempio generate greetings e qual è il risultato di questa cosa? 3 secondi una funzione hello world no no non viene valutata ok esattamente quello che esattamente quello che mi aspettavo da voi il risultato di questo è un hop o per lo più non è niente vedete una riga di log perché qui ho voluto aggiungere le log ma tendenzialmente questa cosa non ha fatto niente l'unica cosa che ha fatto ha valutato un metodo che ha generato un metodo e noi abbiamo preso la definizione di questo metodo e l'abbiamo messo nel contesto ma qui da nessuna parte leggete il side effect hello world giusto? per vedere anche il side effect hello world dovremmo scrivere una roba tipo system autoprint l'n generate greetings grazie generate greetings giusto? ah si grazie arrivo scusate un secondo grazie grazie infatti vedete cosa ha fatto overpred addition e funziona vedete questa è la riga di log che ci dice che abbiamo aggiunto un metodo al contesto questa invece è l'effettiva esecuzione del metodo scusami la domanda era? si eh esatto Mario ti ha già risposto ovviamente sta nel contesto di jshell jshell è lo strumento infatti jshell viene molto comodo per questa presentazione perché ci permette di astrarci un secondo a tutti i dettagli implementativi e del fatto che ci debba essere un public static void made tutte quelle regioni di roba che avete studiato sul vostro libro di java 101 e o avete imporato al jvm user group ci siamo? ora notate quello che ha fatto l'idea per noi quello che ha fatto l'idea per noi quando io ho preso questo e l'ho copiato qui dentro che cosa ha fatto? esatto volte si è chiamato l'abbiamo chiamato prima quoting della string esatto questo perché perché se noi avessimo scritto una roba del genere inutile dirvelo l'idea ce l'ha fatto automaticamente ma questa roba qui non compila neanche chiaro? e non credetevi mal quoting è uno dei problemi principali della metaprogrammazione fatta in questo modo ora cerchiamo di fare una cosa interessante per chi non ha già visto la presentazione ovviamente con i miei colleghi io adesso vorrei fare una roba del genere vorrei passare un parametro formal al mio metodo che genera un metodo e a seconda del parametro che passo voglio generare due diversi metodi due diversi metodi diversi nel caso in cui faccio vediamo se mi viene al primo colpo formal una roba tipo good morning o altrimenti la voglio chiamare hello world ok ti 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 metto le parentesi qui metto le parentesi qui oh questa roba funziona mancano i doppi apici dove li metto i doppi apici dentro come qui poi dopo la g qui ok così funziona con punto virgola vediamo manca un punto virgola dopo la g così funziona no devi passare il true dentro il great x nel secondo l'altro insomma devi passare un true un false l'abbiamo già fatta è qua no no quello ce l'ho solitamente no perché non si non sta passando ok questo no non serviva a passare la cosa avete fatto avete fatto una serie di errori comuni e ovviamente una serie di errori comuni che non avete fatto solo voi è assolutamente una serie di errori che abbiamo fatto noi proprio quando abbiamo iniziato a generare i codici in questo modo l'errore più comuno ovviamente è confondersi tra i vari metalivelli io quello che volevo fare non volevo generare un metodo che prendesse un booleano che mi dicesse facesse un saluto formale un saluto informale quello che volevo fare è avere un metodo che prendesse un booleano e a seconda mi generasse un saluto formale un saluto informale e quello era stato il primo il secondo errore però qui siamo incappati molto più noi è proprio l'errore di quoting è proprio difficile ragionare a questi livelli e capire esattamente dove vanno gli escape perché vedete che qui i letterali delle stringhe si mischiano assieme questi letterali delle stringhe o scusate questi letterali delle stringhe è il letterale della stringa del metodo che vado a concatenare questo letterale della stringhe è invece il letterale del metodo che andrò a emettere guardate che idea è già gentile perché ce li mette di due colori diversi quindi se io vedo il letterale di colore verdino so che è codice sorgente quindi ha un metalivello mentre questo qui in arancione invece è quello che verrà sputato fuori come vedete fuori come vedete scusatemi non è per niente banale e vi dico che noi abbiamo iniziato generando codici così dopo poco tempo ci siamo resi conto che non era facile da mantenere molto spesso ci troviamo nella soluzione in cui per capire ad esempio qui c'è un altro errore qui non si vede qui non lo faccio sì comunque la capo ma normalmente questo è il genere di altri errori in cui faccio normalmente quando si mette codice la capo non è importante se stai mettendo Java ovviamente se stai mettendo un codice in cui la capo è importante anche quello è più importante e quindi siamo un po' punto a capo e quindi ci siamo resi conto proprio poco dopo poco che era proprio difficile mantenere questo codice qua e ci siamo chiesti ma c'è un modo più intelligente per farlo intelligente vediamo scusa? no l'ho detto per far arrivare cosa cos'è che hai detto? multiline string multiline string allora devo dirti la verità qui Java ci va un po' contro perché nello specifico ovviamente come voi probabilmente già sapete ci sono degli altri linguaggi di programmazione dove scrivere i letterali delle string è più chiaro non bisogna scrivere gli a capo vabbè che poi qua comunque non puoi scrivere i più quindi è un po' più semplice o qualcuno potrebbe dirmi giustamente utilizza un message format o uno string format un printf insomma quello lì oppure addirittura uno potrebbe andare oltre e dirmi perché non hai utilizzato velocity per generare codici e perché non hai utilizzato un template engine d'altra parte i template engine esistono dall'alba dei tempi e si utilizzano per mandare le email e in generale per lo più per fare le pagine web perché non possiamo utilizzarle per fare codice sorgente adesso se mi concedete questa digressione sui template engine la teniamo alla fine perché comunque è importante ma mi faccio le domande e mi do la risposta al suo marzulliano vediamo questa cosa qua statement statement ora inutile dirvelo ma la risposta a tutto questo è ovviamente abbiamo utilizzato java parse perché abbiamo utilizzato java parse perché avevamo già java parse allora ci sono innumerevoli metodi per generare java parse allora l'abbiamo detto prima è un set di utility è nato come un parser di java ma è diventato in breve tempo un set di utility per parsare codice java generare codice java o trasformare codice java è utile se volete fare un tool che ad esempio prende come input che fa delle robe di metaprogrammazione prende come input codice java lo trasforma generare codice java questa serie di cose perché abbiamo usato detto ciò qui c'è la nota divertente ci sono innumerevoli librerie per generare codice java ok java parse non è né l'unica né la migliore personalmente non conosco le altre ok è una missione di ignoranza ci possiamo fare niente noi abbiamo usato questa ci siamo trovati bene il motivo per cui l'abbiamo utilizzata è che ce l'avevamo già nel class path il motivo per cui ce l'avevamo nella class path vabbè alla fine uno fa la piega nel senso no non sto dicendo attenzione non fate l'errore di credere silenzio in aula non fate l'errore di credere che ce l'avessimo nel class path per caso ovviamente ce l'avevamo nel class path perché l'avevamo già utilizzata per altri motivi però una volta che ce l'avevamo già nel class path invece di andare a investigare altri modi abbiamo provato a utilizzarla per emettere codice sorgente ci siamo trovati tutto sommato bene sono sicuro che ci sia almeno fuori una libreria che emette codice Java in un modo a meno equivalente o forse anche migliore se la trovate scrivetemi a me interessa probabilmente non la cambieremo mai in Drus perché ovviamente adesso l'abbiamo creato già la parsa e va bene adesso scusate per l'onore di Conaca l'esempio originale è questo ma ho sbagliato da scriverlo quindi avete visto un esempio più elaborato comunque è una roba simile però era anche un po' più interessante perché faceva così scusate ok immaginiamo di evolvere un po' il metodo che volevamo creare prima invece di creare un metodo che semplicemente dice Hello World o Good Morning dice Hello World più il nome questo introduce una serie di altre difficoltà perché ad esempio tra Hello World e il nome bisogna anche mettere uno spazio perché non vogliamo vedere Hello World Luca tutto attaccato e che comunque poi comunque dobbiamo anche chiamare il metodo passandogli il parametro ok adesso vediamo come si fa a generare questo metodo in utilizzando le piedi di Java Parser allora prima di tutto vi dico che le piedi di Java Parser non è leggibilissima a primo a primo impatto sì grazie per la parola questo perché ha molto a che fare con gli elementi dell'AST vi ho già detto che nasce come un parser il parser comunque prende come un input in un linguaggio di programmazione e genera degli elementi di un albero questi elementi di un albero sono tipati ogni elemento di un albero ha un tipo quindi troverete che banalmente dovete capire insomma cosa state facendo se io voglio generare uno statement che si chiama return Hello World ovviamente dovrò rigenerare un return statement se io non so che questa cosa si chiama un return statement la vedo un po' difficile quindi dopo vedremo un attimo come si fa allo stesso tempo questa cosa qua col più è una binary exp che sta per binary expression un'espressione binaria che ha un lato a sinistra un lato a destra e un operatore che concatena le due cose sto dicendo delle banalità per qualcuno di voi per qualcuno di voi invece è un altro è un interessante excursus sugli AST allora new binary exp abbiamo detto a sinistra c'è questo a destra che cosa c'è name e l'operatore è plus ora vedete cosa sto facendo adesso vado un attimo a capo sto creando uno statement che fa ritorno che va a fare una concatenazione tra una prima stringa che è hello world spazio e a destra e quindi una stringa diventa un letterale di una stringola si chiama letteralmente string literal exp e a destra c'è invece punto name questo qui invece si chiama name exp in termini di Java Parser vi piace? name exp è una qualsiasi espressione una qualsiasi variabile o parametro cosa ne pensate vi piace? la domanda è possibile generare dei codici con Java Parser che non è codice compilabile assolutamente si la ringrazio per la domanda ora la domanda per quelli che ci seguono da casa è è possibile generare con Java Parser del codice non compilabile? si è un po' più difficile e qui concedimi un attimo che vado ancora nello scursus adesso lo faccio mentre parlo mentre vi scrivo tutta questa cosa arrivo? non mi sembra una cosa positiva no è chiaro non è per niente non riesco a fare due cose contemporaneamente volevo darvi una mano e rispondere alla domanda mentre parlavo ma invece ti rispondo alla domanda allora non è una cosa positiva diciamo che rispetto all'utilizzo di un template engine come sia velocity o uno string format è leggermente più difficile perché ovviamente come vedi andiamo a utilizzare degli oggetti di dominio che purtroppo possono essere concatenati solo in un modo ben specifico io all'interno di un return statement posso metterci solo un expression e adesso andremo a vedere ad esempio banalmente se io voglio fare una method declaration che è banalmente una declarazione di metodo io devo passargli dei parametri ben specifici nell'esempio banalmente dobbiamo passare un metodo public un modifier public scusate oppure gli devo passare il valore di ritorno che è una stringa gli devo passare il nome del metodo ovviamente a questi livelli è molto più difficile generare un metodo invalido del codice che non sia codice java valido certo che ovviamente il codice java valido poi deve avere un senso se io faccio passare un tipo vedete io qui c'ho scritto string ma l'ho scritto una stringa se qui ci metto buonanotte buonanotte non è un tipo valido ovvero almeno che ovviamente non glielo do nel class path quindi ovviamente la parte di type safety a livello di generazione non è garantita inutile dire che noi in Drunso invece siamo creati tutta una serie di strutture in modo tale che la generazione di tipi venga dai tipi in input e quindi fosse un minimo type safe una cosa di questo genere la method get a ration a questo punto ha un parametro l'abbiamo visto prima giusto e questo parametro è un tipo di tipo parametro questa sarà l'unica volta che vediamo l'API di JavaParse quindi non preoccupate non passerò per un'ora a scrivere il codice di JavaParse anche perché non lo trovo particolarmente interessante e poi possiamo fare una roba del genere ah dobbiamo fare greeting set body e ci mettiamo lo statement giusto che c'è praticamente sto scrivendo sì la st a mano esatto ehm ok things to strings funziona sta roba? che dite? ce lo dice il programma allora Luca allora questo io spero che risponda un minimo alla tua domanda nel senso è possibile generare codice non buy sì però è più difficile cioè vedete che io adesso l'ho scritto vabbè l'ho copiato un pezzo l'ho copiato non è esattamente uguale perché l'ho cambiato leggermente però come vedete l'ho scritto e più o meno al primo colpo sono riuscito ad azzeccarlo a questa cosa ma adesso vediamo la parte interessante perché qui veramente la parte interessante se arriva il cliente e mi dice fai la modifica che abbiamo detto prima ovvero fammi passare un parametro a seconda del parametro generami due metodi diversi qui diventa facilissimo adesso lo sbaglio non era greetings scusate era good morning vabbè greetings Luca vedete come questa modifica qua ci ho messo proprio un istante a farla e invece prima quando l'abbiamo fatta dieci persone diverse avevano dieci idee diverse no ci devi mettere il punto lì devi mettere lo spazio lì e cose di questo genere quindi vedete che abbiamo un evidente vantaggio a livello di manutilibilità ovviamente a discapito della leggibilità perché diciamoci chiaramente questa cosa qua non è necessariamente più leggibile di questa cosa qua giusto? questa con tutti i problemi del caso c'è il fatto che c'è i new line c'è le più per andare a capo però diciamoci la verità si capisce subito cosa fa certo se vi avessi fatto vedere la versione conforme al dentro era un po' più complicato questo invece lo devi un attimo andare a leggere se poi ovviamente voi prendete un metodo e iniziate a restituire il metodo declaration passare età e cose di questo genere dopo un po' non si capisce comunque cosa sta facendo quindi bisogna fare attenzione che ne pensate? ci sono opinioni forti? idee? domande? leggibilità e manutilibilità non correlano diciamo interessante sì 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 è vero è vero d'altra parte noi scriviamo codice per essere letto o per essere scritto? per essere letto e quindi in realtà non stiamo andando nella direzione necessariamente giusta diciamo che anch'io sono uno strano sostenitore del fatto che noi scriviamo codice per essere letto e non per essere scritto detto ciò un minimo di manutilità non mi dà fastidio diciamo che l'esempio che avevamo prima adesso scusate l'ho cancellato però non so se ve lo ricordate quello che apriva la parentesi faceva formal metteva i new line così non era né leggibile né manutenibile quindi era un po' il peggiorito i mondi java non è il linguaggio più adatto la metaprogrammazione detto ciò qui dobbiamo fare metaprogrammazione quindi ci attacchiamo al tram quindi cerchiamo di trovare un po' qual è il metodo migliore per noi per generare la cosa sì cosa interessante ma cosa del genere come è che la testi come te l'ho fatto a vedere prima come abbiamo fatto in Drus allora ci vuole un attimo di fantasia prendi il codice sorgente generi dell'altro codice sorgente prendi quel codice sorgente lo compili lo esegui ok quindi c'è un metà livello in più banalmente io qui potremmo scrivere un test potevo adesso non farmelo fare ti prego perché poi fisco scrive già la parte tutta la sera è già il mio lavoro è un'ottima domanda è assolutamente un'ottima domanda e anzi ti ringrazio per la domanda e la domanda non l'ho ripetuta da parentesi quindi se c'è qualcuno che ci segue da casa non ne sono sicuro la domanda è come faccio a testare questo codice sorgente ovviamente lo testi esattamente nel modo in cui lo testeresti cosa? con un unit test con un integration test chiamarlo un unit test qui è un po' più interessante perché c'è un metà livello di mezzo e quindi potrebbe forse essere più considerato un integration test che ovviamente fa due cose contemporaneamente va a testare il fatto che è emesso del codice e poi va a testare questo codice preso, compilato ed eseguito fa quello che mi aspetto se io avessi generato in questo codice la somma che è il mio cavallo di battaglia quando devo parlare di testing 2 più 2 vado a verificare che 2 più 2 fa 4 letteralmente questo però la domanda è interessante perché mentre scrivo il compilatore di Drus me lo sono posto più volte questo problema io devo testare l'output del compilatore quindi andare a fare andare a vedere gli internal o devo andare a testare che cosa farà il metodo che mi genererà questo è interessante ed è un po' il duale scusate è un po' equivalente all'altro grande classico dilemma io devo andare a testare il comportamento o devo andare a testare la struttura che in altri termini è io devo andare a testare con i moc o devo andare a testare eseguendo le cose che faccio perché se andate a pensare adesso siamo un po' off topic ma testare con i moc è letteralmente questo usando un moc io vado a fare una verifica su quali metodi sono stati chiamati vado a vedere gli internal quindi l'equivalente di testare con i moc sarebbe andare a vedere andare a verificare che questo metodo che questo metodo mi ha generato questa stringa che forse non è proprio il metodo più efficace non lo so ve lo lascio al lettore sì noi stiamo facendo scusami una cosa un po' diversa non vediamo che stringa generiamo ma poi la facciamo girare esatto esatto quello che ho detto sì non facciamo l'equivalente che testare con i mog non andiamo a testare però scusa vasco e dopo ti faccio fare la domanda però più volte ovviamente testando due cose contemporaneamente qual è il problema quando si rompe qualcosa non capisci quale step si è rotto cioè non si è rotto la parte di interpretazione o si rompe la parte di compilazione e allora lì va di debugger e non so se qualcuno di voi è un appassionato di test ma io che vengo anche da quel mondo lì so che c'è della gente che mi dice io scrivo solo unit test e il debugger non lo uso mai e ovviamente se tu scrivi uno unit test che fa sia emanazione di codice sia valutazione di codice finirà che alla fine il debugger lo devi usare insomma interessante non ho una risposta chiarissima per questa cosa sì Francesco sì stanno scrivendo un compilatore sì è vero sì 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 noi l'abbiamo scelto assolutamente sì ma infatti ti confido che se l'avessero scritto in Kotlin sarebbe venuto bene detto ciao comunque la domanda è interessante e ovviamente noi ci potevamo scherzo Francesco la domanda è accettate PR sì Drus è un progetto open source quindi potete vedere questo lavoro anche Kotlin accettate PR quindi se volete migliorare Kotlin potete mandarlo senza problemi sì ovviamente potevamo scegliere il linguaggio di programmazione che volevamo noi avevamo il costrente che doveva girare sulla GVM e ovviamente doveva essere eh sì anche il generatore perché ti ho fatto vedere prima che c'era un API che comunque prende genera compila e quello è un API Java quindi doveva girare sulla GVM se noi avessimo introdotto un compilatore C nella pipeline avremmo dovuto iniziare a interfacciarci con dei codici binari insomma non era banale avremmo dovuto utilizzare la shell c'è una libreria per utilizzare la shell in Java giusto? no proprio la shell tipo la command prompt mandargli i comandi quelle robe lì vabbè insomma sarebbe stato complicato in Java è tutto Java ma prima io vorrei che vi soffermaste un attimo su un dettaglio filosofico che i miei colleghi già conoscono perché sono già visti questa presentazione abbiamo parlato prima dei codici sorgente come se fosse una stringa di test codice di test questo cos'è? è codice sorgente per voi? assomiglia a una stringa? sì chi ha detto? ah ok assomiglia a una stringa va bene il perché in effetti questo è comunque dei codici sorgenti se sali di metà livello il metà il codice sorgente che genera questo codice sorgente è una stringa a sua volta ma volevo parlarti di proprio questi oggetti questi oggetti sono stringhe? ok è tutta una stringa nel mondo da roba ok questi oggetti qua questi datatype no non il file .java scendete di metà livello ripeto questi datatypes sono stringhe? no che cosa sono? concetti concetti più specifico? tutti sono concetti tipi? classi? nodi nodi non est nodi non est questo qui è un albero ok si vede questo è questa è la la root method declaration queste sono le foglie questa sua volta parameter se andate a navigare si potrebbe anche stampare come se fosse un albero se fosse stato veramente cool avrei fatto un tool che lo stampava come albero comunque questo è un ast è un benedetto ast ed è interessante però perché noi abbiamo detto prima che per noi il codice sorgente è testo e invece qui stiamo vedendo che il codice sorgente è ast quindi cos'è il codice sorgente? testo o ast? beh è una provocazione tu queste cose ce la puoi mettere dentro con la stringa assolutamente non è una provocazione è più un tentativo di ragionare una cosa che un qualcosa che ho realizzato qualche tempo fa un po' come la luce che si comporta nello stesso modo come un'onda e una particella a me piace pensare al codice sorgente come allo stesso tempo codice di testo quando lo scrivo è un ast questo perché se voi utilizzate un IDE quando andate a utilizzare tipo degli shortcut per fare refactoring così quello su cui state agendo non è codice sorgente è un albero se io seleziono questa ispezione ecco in idea faccio control alt v fa extract variable quello è assolutamente un albero se l'idea non avesse al suo interno una struttura d'albero se non avesse un parser che ha passato quello che stiamo scrivendo e non sapesse che noi stiamo avendo a che fare con java non potrebbe darvi questi tool di refactoring che non so voi ma io utilizzo tutti i giorni sono molto efficaci se invece qualcuno di voi invece è più appassionato a non so un editore a caso vi hai vi hai tratta il suo quello che modificate come assolutamente codice di testo e quello che date voi a vi hai sono dei comandi per modificare del codice di testo vai avanti i dieci caratteri vai al prossimo new line cancella dieci righe quelle robe che si fanno in vi qualcuno fa in vi c'è anche chi programmaggiava con vi in 2019 dobbiamo avere scusami si o banalmente si è quello un po' il meglio il peggio dei due mostri ti dite io sono un grande fan di di tra parentesi e cioè mi piace molto come come stile volevo farvi un po' questa riflessione sul codice di temi sul codice mi piace mi spiace ma ah si lessico sintassi bello mi piace significante significato se la mani mette a livello facciamo un esempio un po' più complicato e vi giuro che questo è l'ultimo esempio e poi andiamo a mangiarci la pizza oggi stasera facciamo go ok facciamo go in java vi piace? con il linguaggio no linguaggio anche se vi implementerò con il linguaggio in sole 5 righe di già parso oggi andiamo a generare un metodo che è molto a cuore nei funzionalisti come me l'accumulazione la sum cosa fa? prende un array di interi e li va a sommare h uguale h più i una roba del genere poi fa return h ok? chiarissimo cosa fa questo metodo non chiaro chiarissimo vabbè quindi gli passo 2, 3, 5 e mi restituisce ehi grazie però io sto scusate generate sum però io sto ok quindi andiamo a generare questo metodo utilizzando le stringhe tec funziona? mi ricordo più come si programma in java generate sum e poi faccio qui sarà divertente che io tolgo qui il parametro e faccio sum di new int new int scusate 1 2, 3, 5 giusto? così va? non va? 10 no in java non serve punto e virgola però si qui serve meglio mettere punto e virgola c'è un altro primo colpo sono un programmatore della madonna perché ho azzeccato la metaprogrammazione per il colpo c'è da dire che io utilizzo un linguaggio di programma grazie ogni tanto me lo devo ripetere perché poi mi viene poi arriva il cliente e guarda a casa e mi dice sì però lo sai che in Go non esistono i generics adesso immaginate che qui stiamo scusate non esiste neanche le mappe sì ma per esempio ovviamente non sto facendo Go stiamo facendo un po' di gioco di ruolo cioè sto facendo finta di essere un programmatore Go anche se sto scrivendo Java e sto migliorando e dire va bene qui non ci sono i generics perché non mi fai un metodo che mi genera dato in input il tipo su cui voglio fare l'accumulazione e a seconda mi genera un metodo specializzato sugli interi specializzato sui double o magari senza gioco di ruolo perché magari non vi piace il gioco di ruolo magari mi venite a dire una roba del tipo ok secondo me è più efficiente fare scrivere schiantare direttamente il tipo all'interno di questa accumulazione quindi voglio generare dei vari tipi non so una roba del genere come fare il loop esatto adesso facciamo un esempio facile perché ci vogliamo bene e ovviamente ci chiedono questa modifica e proviamo a implementare ok ci siamo come si fa pronti eh così giusto vedete pam pam a questo punto io passo qua int e funziona va va non va yes è andato proviamo con l'altro caso qui ovviamente devo cambiarlo perché va è andato 10.0 letterale del double anche con le string però dovresti passare anche il punto anche con le string va come va come va assolutamente funziona anche con le string quindi ah hello scusate lo zero del monoide è assolutamente lo zero del monoide allora più del monoide è equivalente ma lo zero del monoide non va quindi niente voi funzionalisti fate tutto a merda sempre ho fatto un template sì esatto quello che ho fatto ho fatto un template ma non solo l'ho fatto nel peggiore modo possibile con lo string replace e personalmente trovo che questo codice sia già a livelli di inmanutilibilità che ne pensate? cioè è complicato qui ovviamente se mi sbaglio il punto lo spazio non va più niente qui non va più niente insomma un casino modificare questo codice diciamo che lo potete fare la prima volta potete dire siete fighi di dio ma se provate a rimodificarlo un'altra volta ora andiamo a vedere un altro metodo un po' più interessante per fare la stessa cosa almeno a me piace e vi giuro che questo è l'ultimo esempio partiamo come prima lo chiamiamo template per la gioia di vasco e ce lo schiaffiamo dentro ok ma a questo punto invece di fare il replace di questa cosa qua andiamo a scrivere invece di int andiamo a scrivere questa cosa qua un placeholder esattamente come andremo a fare in un velocity template ok e poi facciamo una roba del genere che ovviamente devo leggere perché non mi ricordo mai la sintassi a parse body declaration la chiamiamo template ok cosa fa questo questo fa vedere un po' la natura di java parse java parse non nasce necessariamente solo per emanare codice ma nasce anche come un toolkit per anche parsare i codici java quindi gli posso dare del codice java in input e lui me lo ha perso uno st una volta che ho una cosa scusate l'ast generato posso fare una roba del genere posso andare a dire vami a trovare tutti i tipi che hanno come nome il mio string num type giusto? e per ognuno di questi sono sufficientemente funzionale sostituisci me lo con num type ops ok è chiaro cosa fa questa cosa qua perché se io non mi ricordo mai se in java si può utilizzare lo stesso nome del prime sottobine questo funziona in java ah ok perfetto sono due lamba diverse quindi si può usare così non mi rompete si può dire in diretta non mi rompete le ok posso dire anche cacca ok funziona sta roba più 10 double double ed è funzionato anche questo considerazioni ora una l'abbiamo già detta giusto? qui fa vedere anche un po' un po' di API per fare delle cose più interessanti quindi non solo emanare codice generare codice ma anche per trasformarlo come abbiamo visto questo in più personalmente trovo questo un po' come il meglio dei due mondi si può dire abbiamo da un lato la leggibilità asterisco poi adesso discutiamo di una stringa con quello che dobbiamo fare ma allo stesso tempo è abbastanza chiaro capire cosa fa questo codice in più non abbiamo dovuto più scrivere tutta quella spattafatta di prima perché vi sfido a scrivere manualmente utilizzando java parser tutto questo ciclo for ovviamente sono tanti nodi che vuol dire tante righe e il metodo esplode si franzi domanda si possiamo provarlo subito beh in questo caso è jshell che ci dà l'errore te lo dico già invece di in un type qua string ci scrivo pippo esatto eh banalmente qui dice allora la domanda è puoi provare a farlo vedere sbagliato allora ci sono vari modi in cui possiamo sbagliato quello che abbiamo detto prima pippo è passagli un tipo che non ha senso no qui è jshell che si parsa dice guardate che messaggero è possible reparable failure addition of questo è jshell qui java parser non si è ancora spaccato ovviamente il modo migliore per spaccare java parser in questo caso esatto è passagli java codice non valido ovviamente spaccarlo utilizzando quello di prima è un po' più difficile anche perché l'ho cancellato ah no qua quello che diceva Mario prima è un buon esempio qui c'è una stringa letterale schiantata name ovviamente se un lato scrivo name l'altra volta scrivo name 2 non funziona più quindi ci sono vari modi in cui si può sbagliare si spaccarlo in time si spaccarlo in time si giusto no si spaccarlo in time giusto però è interessante perché mi voglio ricollegare quel discorso sui template engine che abbiamo fatto prima abbiamo riscritto un template engine si si e no per questo è un template engine un po' più sofisticato o se potrebbe dire è un template engine specializzato nella generazione di codice e anche di più è un template engine specializzato nella generazione di codice java è un po' un template engine che ci capisce che sa quello che vogliamo fare giusto se noi proviamo a utilizzare velocity per generare dei codici sorgenti java gli dobbiamo dire tutto gli dobbiamo dire cos'è una classe cos'è un metodo com'è la struttura di un metodo dobbiamo fare tutta la capa qui è già tutto fatto è un template engine in cui c'è tutta una serie di metodi in cui io vi mostrerò solo quello perché personalmente trovo a mostrare l'API palosissimo comunque in generale c'è una serie di API per fare esattamente quello che avete bisogno di fare ovviamente lo dovete conoscere però è molto potente che ne pensate? questa magari c'è anche una consiglierazione da aggiungere cioè se al posto che avere quel codice come string che l'avessi non ti parlo non se lo si è in java dove non c'è non è con il ma per dire tra di far dire che c'è in genere di leader sono abbastanza intelligenti che devono adatto degli errori non fare semplicemente perché è nominato java cioè non viene compilato ma tu lo ingesti a quel punto lì e diciamo come diceva un po' Luca è abbastanza comodo perché diciamo non è un primarmo via l'inglese come diciamo che è che testa e basta ma la ringrazio per la precisazione ed era esattamente il mio prossimo punto quindi non ho capito esattamente perché allora ringrazio vabbè comunque no aspettate non l'ho assolutamente finito col cazzo che mi ha applaudito e andate a mangiarvi la pizza e no ho detto che era il prossimo penso non ho detto che era l'ultimo ho detto l'ultimo no ho detto che era l'ultimo esempio però questo è ancora lo stesso esempio solo che semplicemente adesso guardate un attimo quello che diceva Matteo no no stessa figurati anzi ho generato l'occasione per una battuta quindi quello che dice Matteo ovviamente è che si può fare ancora di meglio e invece di utilizzare il template all'interno di una stringa mettere il template all'interno di un file .java che attenzione non sarà e questo è molto importante non sarà all'interno del nostro albero di directory della source perché ovviamente se lo mettessimo nella source maven quando facciamo maven clean install proverebbe a compilarlo e questo come vedete questa è una roba non compilabile è java ma i tipi non hanno informazioni dei tipi esatto però lo stesso idea è un po' intelligente e te la colore quindi eh esatto è un po' la roba del genere quindi a questo punto diventa una roba del genere body declaration e giuro che questo è veramente l'ultimo eh? cosa c'è dopo veramente l'ultimo? cioè veramente veramente l'ultimo aviz aviz classloader fu.java qui voglio farvi vedere che mi sono preparato la cosa e funziona? punti a punto e virgola e tendenzialmente la stessa roba che buone io credo va vabbè ah va benissimo ah non è andato perché non è andato ah giusto giusto scusate perché l'ho messo in una classe ovviamente ci sono delle limitazioni se gli diamo un file java questo deve essere un file java e quindi questo deve essere dentro di una classe e quindi questo esempio diventa leggermente diverso diventa new fu grazie punto sam e ho lo statico le stesse belli stand fine che ne pensate? adesso potete applaudire ragazzi veramente considerazioni ti è piaciuto? userete java parse nel prossimo progetto? per basco l'ho già l'ho già fatto mi ha scritto un'email ti ringrazio per la domanda allora qualche tempo fa mi sono posto il problema io e i miei stimati colleghi Mario e Matteo siamo posti il problema di come conoscere gli elementi dell'AST non è particolarmente banale abbiamo inventato un modo che io ho battezzato il mortari in onore del mio stimato collega Matteo Mortari che funziona più o meno così immaginate di avere pars come era pars immaginiamo di avere gli esempi di prima scusate torno un secondo a prima ma anche questo qua possiamo farlo scusate non so perché non volevo fare ok come si chiama la classe di un ciclo for in java parser ops maledette eccezioni ok come si chiama chi lo sa boh io lo so non lo so vediamo ci siamo inventati questo metodo che si chiama il mortari il mortari sostanzialmente vuol dire se hai bisogno di generare un codice specifico in java parser cosa facciamo lo generi come se fosse un pezzo di codice java lo dai in input a java parser e dopo ti fermi col debugger un metodo come avete visto sofisticatissimo e vi andate vi andate a vedere la st in questo caso è una compilation unit che è una dichiarazione di classe vedete classe interface declaration che ha un modifier un simple name una method declaration che ha un body che ha un block statement e così vedete che qui c'è tutto l'albero in questo caso la risposta alla domanda era for each statement ma non sarebbe bello e dico io avere un qualche cosa che è dato in input del codice sorgente java vi da il codice sorgente java e di java parser che serve per generare quel codice java un template engine no non c'è niente con un template engine adesso ve lo ripeto visto che abbiamo fatto una situazione non sarebbe bello avere un codice un codice java che prendendo un input del codice java mi da il codice java di java parser che serve per generare quel codice java per esempio qui in l'intelligence c'è un block in che usate che lo fa per l'SM che ti dà in basso il backcode non lo sapevo il codice java che dovresti usare con l'implicazione esatto e da qui è nato no non è un decompilatore non è un decompilatore è un programma che fa metaprogrammazione per prendere come input il codice ASM il bytecode scusate e tira fuori in output il codice java ASM che genera quel bytecode il termine giusto il termine che cercate e anche il nome del nostro progetto è il quasi quota ok il quota si chiama qui in termini di metaprogrammazione cioè un programma esattamente come compare il quota il programma che ti dice quali serve per generare quelle cose del programma e niente abbiamo iniziato a farlo e poi l'abbiamo lasciato lì esatto come tutti i grandi progetti e se adesso andate a vedere sul siccome noi lavoriamo all'open source andate a vedere sul nostro gira troverete un task assegnato a me che mi rimando di settimana in settimana finisci il quasi quota solo no sarà sei miei un anno esatto ah sì poi il mio stimato collega questo posso dirlo io visto che mi hai rubato un pezzo di presentazione il mio stimato collega mortario vuole utilizzare il metamodello che attenzione qui non si parla necessariamente di metaprogrammazione il metamodello è il modello che descrive il modello di dati di java che all'interno di java parser per generare quasi quota quindi abbiamo un qualche cosa che genera un qualche cosa che genera qualche cosa quindi abbiamo un alto livello di un metalivello interessante ma una follia pure conviene scriverlo a mano detto ciò anche scriverlo a mano non è così banale tant'è che ogni volta che mi metto a farlo poi mi metto a fare altro sì domanda la ringrazio posso rispondere io prima allora la domanda è io lavoro tutti i giorni in ambito web faccio web application come posso utilizzare java parser ti do una risposta prima io poi sentiamo quella di Mario vediamo come ti ho già detto prima java parser non è solo l'emanazione di codici quella dell'emanazione di codici è solo un aspetto ed è quello più legato al codice sorgente una cosa interessante che abbiamo visto qui sono le trasformazioni sul codice sorgente immagina che tu subentri al lavoro adesso facciamo un po' di gioco di ruolo sei in una stanza davanti a te c'è un computer accendi il computer improvvisamente ti trovi il tuo codice sorgente del programmatore che ha appena lasciato il lavoro non solo ha lasciato il lavoro in un modo terribile ha dato le dimissioni chiudendo la porta e litigando con tutti i capi quindi nessuno sa che cosa ha scritto nello specifico questo programmatore aveva un vizietto scriveva le variabili con la notazione polacca ok? sai cos'è la notazione polacca? la notazione polacca è una cosa po' old style scusate il mio caro amico Agostino mi ha ricordato che ho confuso la notazione polacca con la notazione ungherese scusate due regioni confinanti avete ragione polacca con la di lisp e ovviamente non poteva scriverlo è perché allora no io volevo parlare di notazione ungherese la notazione ungherese scusate sono due regioni adiacenti quindi cancelliamo la notazione polacca la notazione ungherese spero di non sbagliarmi a questo punto mi avete fatto venire i dubbi la notazione ungherese viene dal pascal cioè viene utilizzata per rifiuto in pascal quindi se non hai mai programmato in pascal sei assolutamente giustificato non conoscere la notazione ungherese inoltre se sei nato dopo gli anni 90 non hai più bisogno di sapere io sono nato in 1984 quindi la conosco ancora la notazione ungherese consisteva nel nel scrivere all'interno del nome della variabile il tipo della variabile ok quindi se ad esempio tu avevi due interi che dovevi sommare una persona scriverebbe non so a e b e scriverebbe a più b in pascal un sacco di gente scriveva a int b int cioè andava a scriverci il tipo all'interno del nome della variabile perché poi ovviamente erano gli albori della programmazione quando andavi a leggere il codice tu leggendo il nome della variabile caprivi anche il tipo era vista come una roba una roba vantaggiosa pensare che la gente la faccia anche in javascript nel 2019 ti fa anche un po' pensare vuol dire che proprio come idea non era neanche così male ovviamente qual è la controindicazione verso questa cosa qua che ovviamente quando si disallineano le cose cambia il tipo ti devi ricordare di cambiare anche il nome della variabile poi noi scherziamo ma anche in java cioè noi spesso chiamiamo body declaration nel tipo body declaration qui non è che proprio ci ammazziamo cioè diamo i nomi delle variabili che sono i nomi del tipo con la minuscola date o date calendar o calendar c vabbè detto ciò tu entri questa stanza questa litigata e arrivai e dici senti io non posso lavorare più con la notazione ungherese mi vanno gli occhi assieme e non capisco più niente quello che vorrei fare è scrivere un tool che mi prende il mio codice sorgente già committato su git e mi elimina la notazione ungherese la notazione ungherese non si faceva si faceva di solito con l'underscore quindi uno metteva tipo nome underscore tipo adesso mi ricordo se era tipo underscore nome nome underscore tipo vabbè è un dettaglio in java parse fare una roba del genere è relativamente facile fai un ciclo gli fai parsare il coso e vai a cambiare tutto il codice sorgente in modo tale da eliminare la notazione ungherese è una roba che magari ti prende una mattinata ma improvvisamente il tuo codice sorgente è di una qualità più alta secondo i tuoi standard di qualità ovviamente ovviamente stiamo parlando di metaprogrammazione tu mi dici io faccio web application come la uso la metaprogrammazione la metaprogrammazione ha a che fare con modificare il codice sorgente se non hai bisogno è tautologico ma se non hai modificare il codice sorgente non hai bisogno di fare metaprogrammazione detto ciò ci sono una serie di utilizzi ad esempio a fare scrivere un tool di refactor o scrivere un tool per cambiare il codice sorgente che ad esempio si sposa bene allora l'ombok non credo di sicuro non utilizza JavaParse sono quasi certo non so come fa l'ombok a farlo se fa se genera bytecode all'inizio comunque si tu se tu ti volessi fare il tuo lombok perché non vuoi utilizzarle e vuoi un modo comodo per generare getter e setter non vuoi utilizzare quello di Eclipse idea perché ti gira o perché magari vuoi fare una roba leggermente più diversa si ad esempio puoi scrivertelo una cosa così quindi no allora che ci siano framework web che utilizzano JavaParse sarà un po' fantasioso però ci puoi trovare che utilizzi esatto se vuoi scrivere un tool programma serve la tua web si se la tua web application che vuoi fare serve per ovviamente modificare o generare Java codice codice Java oh senti un'altra idea geniale geniale carina decente metti che tu a una web application lavori per un classico gestionale all'italiana ti chiedono di fare un gestionale improvvisamente ti chiedono di fare una modifica che lo so un gestionale le zucchetti zittite tipo le buste paga e ti chiedono improvvisamente di inserire all'interno del tuo gestionale nel back office un sistema per fare scripting o per fare delle proiezioni a questo punto e quello dove utilizzare un linguaggio di programmazione che è Java dove devi utilizzare Java come scripting a questo punto è comodo fai una input in un web scrivi dei codici Java glielo dai dai un servizio rest il servizio rest prende JavaParse e a questo punto è una cosa type safe e sei un po' insomma sei un po' più protetto magari verso cose tipo Java injection visto che poi uno si mette a fare Java injection sul portale back office però insomma col massimo sì Agostino una domanda come con l'occasione di parlare di injection cose tipo eval in javascript o la SQL injection in PHP sono stati considerati da sempre grossi problemi di sicurezza sì assolutamente dentro codice da fuori può essere solo un parametro può essere una funzione intera e ovviamente è una superficie assolutamente sì è una cosa ovviamente che devi stare attenti ci sono dei modi allora la domanda è eval storicamente si porta dietro una nomea di essere insicuro lo fa in javascript lo fa in PHP lo fa in SQL la classica SQL injection quella che c'è stata prima come ci rapportiamo qua anche qui bisogna stare attenti allora non sono un esperto di sicurezza quindi non so necessariamente risponderti ma io credo che passando attraverso tutto questo ambaradan ci dia una discreta sicurezza o ci dia dei tool per creare dei tool che ci permettono di verificare ad esempio se io so che come input immaginate l'esempio di prima che abbiamo back office dove posso scrivere qualsiasi applicazione java io posso scrivere una regola in java parse che mi dice vai a parsarlo e vai a verificare che non chiamo mai che chiamo solo le addizioni ok quella è una cosa che posso fare in java in java parse e poi se uno mi prova a scrivere system exit 0 lancio un'eccezione o una roba del genere perché ovviamente uno potrebbe far crashare il back office quindi sì uno strumento come java parse mi sembra un buon tool per evitare dei casi per cercare di rendere più sicuro o le valutazioni di codici la valutazione di codici in Italia altre domande? c'è la risposta di Mario sì una cosa forse un pochino più pratica che poi in effetti abbiamo fatto davvero in cogito è quella di generiamo tanta altra roba adesso che c'è la parse perché ci abbiamo preso la mano una di quelle cose che generiamo è generiamo dei facciamo scopoli di restate poi quindi praticamente in base a qua a quello che metti nel DRL c'è una costrutta DRL che è l'Aquili se nel tuo DRL c'è un Aquili quando facciamo scopoli di questo codice qua facciamo quando generiamo questo che Luca ha chiamato la seguita bonmodel in cogito facciamo pure scopoli del restate point che automaticamente ti consente di invocare quella qui quindi tu non devi più scrivere nessun codice già ma per esporre quel end point perché viene automaticamente generato dalla nostra dalla nostra applicazione questo è un po' un esempio buono assolutamente più concreto si sono saggetti più Jack no rest easy le annotazioni si rest easy si domanda c'è una lì una lì si prego no no lui ne ha fatte tante ah scusa problemi di clash sui nomi problemi sui clash sui nomi si verbo hygiene delle macro si si assolutamente si ok la domanda è avete avuto problemi a generare codice con la hygiene delle macro ora il concetto di hygiene delle macro è un concetto teorico e non abbiamo parlato perché non abbiamo parlato di macro necessariamente ovviamente chi ha avuto a che fare con l'ISP o con tante macro sa qual è il problema allora hygiene che credo che si traduca in italiano con igiene proprio ok quindi io perché il termine inglese è l'igiene delle macro bisogna stare attenti che le macro puliscano in sostanza e si puliscano in sostanza ha a che fare con una tecnica per cercare di verificare che le macro non vadano ad accedere a delle variabili che sono fuori dello scopo che in generale che vadano a modificare del codice o in generale che includendo macro su macro si rompano le macro che stiamo andando a chiamare giusto? più o meno? è piaciuto come difficile? che non vadano a modificare le vite attorno devo dirti la verità a parte che noi non facciamo necessariamente macro ma facciamo vabbè facciamo programmi che generano codice che sostanzialmente sono macro ma non andiamo a concatenarli come si andrebbero a concatenarli macro storicamente cioè noi le andiamo a chiamare e no non c'è mai praticamente mai capitato generiamo delle classi relativamente semplici anche se sono di tanti tipi diversi ma non sono tante innestate non sono tante cose e ci è capitato raramente che trovai queste cose qua però certo ogni sistema di macro ti espone a dei problemi di questo genere se non stai attento ci possono essere dei problemi si banalmente se c'è un name clash io ad esempio lì ho messo num type che è in tutto maiuscolo aspettandomi che ovviamente venga utilizzato solo in quel template ovviamente se si mi arriva da qualche altro tempo che mi aspetto che nessuno chiami la classe num maiuscolo underscore type minuscolo però ovviamente se avessi utilizzato string sarebbe stato non furbissimo diciamo e ci avrebbe esposto altri tipi di problemi non so se rispondo a altre domande ok ottimo altre domande? si Agostino domande un commento sempre alla metaprogrammazione nel web venendo da un mondo frontend mi permette di fare un commento su quello che non è il mondo java adesso quasi tutte le soluzioni frontend hanno qualche tipo di metaprogrammazione nella pipeline JSX è sostanzialmente un sistema complicato per generare il codice javascript Amber ha una specie di bytecode interno per i suoi template credo che anche Angular faccia qualcosa del genere adesso tutti i framework principali hanno qualche tipo della serie del mondo javascript non ci facciamo mancare niente giustamente si esiste javascript pars si avete valutato per ragioni che in questo momento non spero di usare tipo nation con le robe lì per usare javascript interno di java per non so forse perché è una sensazione un po' più leggera devo dirti la verità non so cosa sia nation però 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 una volta però una volta per prendere in giro zucchetti una volta scherzo massimo una volta il mio collega Edoardo per prendere in giro il mio collega Mario che si sa che non è particolarmente un amante di javascript aveva utilizzato il sistema di graal vm che permette di scrivere drules in javascript per fare appunto drules javascript è stato un momento molto divertente secondo me era produttizzabile probabilmente però chissà magari in futuro io non lo vanno bene io e su questa signori vi saluto grazie per essere venuti e buona città grazie a tutti